vittoria no va bene ok tutto portiamo via elsa e ti metto le foto di lino banfi al posto di elsa in cameretta lino banfi è un signore che fa un signore che fa così se lino banffi ciao fede sei fatto bene con vittoria è così bisogna fare vittoria stammi a sentire bene fa bene papà perché però poi c'è no i vedi i poster cambiamo troviamo quelli di elsa mettiamo questi miei mettiamo questo è il pupazzo mio è capito così è contento anche leone e leone ciao ciao fede ciao tutta la famiglia chiara 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 ciao